a palazzo del pegaso premiati vincitori del concorso tesi di laurea 2022 in ambito neuro riabilitativo presentata la campagna di fratres toscana donare sangue la ricetta della felicità un'iniziativa per invitare a donare aumentare la squadra dei volontari due eccellenze senesi il super tuscan nella cinta il 4 aprile sbarcano al vinitali le tesi premiate sono cinque gli studenti premiati dalla fondazione gianfranco salvini per le tesi di laurea 2022 con contenuti innovativi nella neuro riabilitazione ad ospitare la cerimonia di consegna dei riconoscimenti la sala gonfalone di palazzo del pegaso a vincere il premio da 2000 euro destinato alla tesi di specialisti in medicina fisica e riabilitativa è stata stefania spina dell'università di foggia la tesi che mi ha portato poi alla vittoria di questo premio riguarda l'utilizzo di una tecnologia a base di sensori inerziali applicata alla valutazione del paziente con ictus quello che ho fatto è stato appunto aggiungere questa tecnologia alla valutazione di questi pazienti e ci ha permesso di avere dei dati in più per valutare una di quelle attività più frequenti della vita quotidiana che è appunto il turning la capacità di girare del paziente e questi sensori appunto ci hanno dato dei dati in più per valutare fattori di rischio di caduta e altro e ci hanno permesso appunto di avere un follow up del paziente migliore gli altri quattro riconoscimenti da millero ciascuno per lauree triennali nella classe delle professioni sanitarie della riabilitazione sono andate a gloria mataldi dell'università degli studi tor vergata di roma sofia grandolfi dell'università degli studi di padova lorenzo valducci dell'università degli studi di torino elisabetta valentini dell'università degli studi di siena la mia tesi della della laurea triennale ha riguardato l'utilizzo di realtà aumentata nei pazienti con stroke presso l'unità di stroke unit delle scotte di siena e con questa tesi ho utilizzato un visore microsoft hololens che permetteva di aggiungere degli ologrammi alla realtà circostante e con questo studio sono riuscita a dimostrare come una migliore partecipazione attiva del paziente all'interno del proprio percorso di recupero favorisce non solo un miglior recupero motorio ma anche una riduzione dei tempi di ricovero e ho svolto un lavoro di tesi dal titolo attività assistita con animali nella sindrome di rett ipotesi di trattamento di supporto finalizzato al potenziamento delle abilità cognitive dunque l'oggetto della tesi è la sindrome di rett che è un raro disordine del neuro sviluppo e che ha un'incidenza di uno su diecimila nate vive e questo diciamo studio è stato svolto in collaborazione con l'acss lazio in quanto sono stati appunto utilizzati i cani da salvataggio di questa associazione e l'obiettivo dello studio è stato quello di dimostrare come l'attività assistita con i cani da salvataggio svolta in acqua potesse essere un valido strumento di supporto a quelle che sono le terapie tradizionali la mia tesi aveva come obiettivo quella di individuare di verificare la fattibilità e la sicurezza dell'utilizzo di stimolazioni uditive ritmiche nel trattamento di persone con malattia di parkinson in un contesto però di teleriabilitazione dato la recente pandemia da covid 19 e dato il fatto che la letteratura ultimamente sta spingendo molto sull'utilizzo di tecniche di trattamento hands off rispetto a quelle invece che richiedono il tocco terapeutico ho fatto la tesi sulla sma che è una malattia genetica rara e è l'atrofia muscolare spinale di cui si sa molto poco ho elaborato un protocollo di valutazione della deglutizione in modo da aiutare sia i bambini sia le famiglie in generale per una presa in carico e una migliore qualità di vita collegato da brussel dove si trovava per impegni istituzionali il presidente dell'assemblea legislativa antonio mazzèo non ha voluto far mancare il suo sostegno all'iniziativa della fondazione Gianfranco Salvini un'iniziativa apprezzata dalla consigliera regionale lucia de robertis abbiamo centrato l'obiettivo quello di creare un una cultura dopo di noi dopo le persone che in questo momento si stanno impegnando in questo ambito davvero importante della neuroreabilitazione significa investire su giovani significa fargli comprendere che le istituzioni sono vicine a loro io ho colto con favore la richiesta dell'ingegner buon compagni di di essere presente qua come con la fondazione perché farlo all'interno delle istituzioni significa che le istituzioni accompagnano i giovani in un percorso che non solo è quello di ricerca ma di investimento su se stessi e sul nostro futuro la ricerca ha spiegato il presidente della commissione sanità enrico sostegna un elemento fondamentale insieme alla capacità di trasferire sull'attività clinica i risultati della ricerca per avere un sistema sanitario di eccellenza tutte le ricerche ci dicono questo gli ospedali che riescono a fare ricerca sono quelli che riescono a stare ad alti livelli ha detto sostegni noi sappiamo che i luoghi dove la cura funziona meglio e dove la ricerca si sviluppa e dove si riesce a trasferire sulla parte clinica l'attività e i risultati della ricerca allora la fondazione in questo caso fa questo premia quei ragazzi che hanno fatto ricerca quelle persone che hanno fatto ricerca che sono riusciti a trasferire parte di questa ricerca sull'attività in questo caso di riabilitazione quindi una finalità assolutamente in linea con quelle che sono della regione tutta e in genere del mantenimento e anzi dell'elevazione del sistema di qualità del sistema sanitario toscano tra l'altro viene proprio a una settimana dall'approvazione della nuova riforma sugli IRCS che ci permetterà di avere e rafforzare in grandi istituzioni toscane come Meyer e speriamo anche la fondazione monasterio l'attività di ricerca in maniera più istituzionale e strutturata. La fondazione Gianfranco Salvini ha ricordato la presidente Marzia Sandroni opera per sostenere la produzione e lo scambio di conoscenza incentivando e valorizzando le competenze facendo reti con i soggetti del territorio toscano dell'area vasta sud-est ma anche con i soggetti che a livello nazionale possono fornire migliori contributi scientifici nel settore della riabilitazione neurologica. La fondazione Gianfranco Salvini dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo ha deciso due anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani cercando anche di investire le risorse che la fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca, per favorire la ricerca e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuro-riabilitazione possono nascere dagli studi, dalle tesi fatte dai ragazzi. Hanno portato molto perché abbiamo visto negli ultimi anni il passaggio da tesi sostanzialmente di tipo compilativo e aneddotico a tesi con impostazione scientifica che inevitabilmente sono attraino dell'innovazione nell'ambito delle neuroscienze. L'invito alla donazione Donare sangue è la ricetta della felicità. Non solo uno slogan ma soprattutto una campagna partita da Fratres è arrivata in tutte le farmacie della regione impegnate a consegnare le medicine in sacchetti di carta rigorosamente targati Fratres Toscana con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di potenziali donatori. Tema che sarà anche al centro dei lavori dell'Assemblea regionale di Fratres in programma d'Arezzo il prossimo 26 marzo. Questa campagna ha avuto nei giorni scorsi un lancio dalla casa di tutte le Toscane e di tutti i Toscani, quindi dalla sede del Consiglio regionale, come ha sottolineato il Presidente Antonio Mazzeo. La Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte, così i suoi cittadini. Credo però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Fratres dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana, che può farlo, di fare la propria parte. È importante ancora di più in questo tempo e credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare in questa direzione. Il tema della donazione del mondo del volontariato ci ha visto sempre in prima fila come Commissione Consigliare e come Assemblea Legislativa. Crediamo e ci impegniamo per un sistema sanitario pubblico e gratuito dove la donazione ha un valore importante e un elemento di forza veicolato anche attraverso questi sacchetti distribuiti da tutte le farmacie, ha detto il Presidente della Commissione Sanità Sostegni. C'è bisogno di donazioni, c'è bisogno di nuovi donatori. Noi sappiamo che la Toscana ha una grande realtà di associazioni che riescono a tirare, a convincere tante persone a andare a donare, però non siamo ancora sull'autosufficienza di sangue, che sarebbe un obiettivo veramente importante da poter raggiungere. Sappiamo che è importante donare il sangue, è importante donare il plasma. E allora ecco, questa iniziativa di Fratres oggi è un'iniziativa fondamentale perché appunto la Fratres come le altre associazioni hanno un ruolo di andare a cercare i donatori, a parlare con ognuno di noi, con i ragazzi più giovani, anche in vista delle future donazioni, con le famiglie, con le scuole, per far capire anche con piccoli gesti, anche quando si compra il pane, anche quando appunto si va in farmacia ora a comprare un farmaco, ricordarsi poi che con un piccolo gesto si può aiutare le persone quando stanno male, il sistema sanitario a funzionare, la produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi. Quindi veramente è una scelta che ognuno di noi ha e che le associazioni ci ricordano di poter fare e che serve a tutto il sistema sanitario. Il presidente di Fratres Toscana, Claudio Zecchi, ha spiegato che in Toscana la carenza di sangue si traduce in un meno 4,5%, risentendo anche del periodo legato alla pandemia. Come Fratres ci sono state circa 1200 donazioni in meno. Da qui l'invito accorato del presidente, mancano all'appello nuovi donatori, ha affermato abbiamo bisogno di giovani disposti a fare un piccolo gesto, a regalare pochi minuti del loro tempo per cambiare la vita di chi ha bisogno per donare la speranza nel futuro. Fratres Toscana, che può contare su 12 consigli territoriali, 285 gruppi e oltre 1000 volontari, nel 2022 ha registrato oltre 62.000 donazioni garantite da 40.000 donatori. Nell'intento di cercare di prevenire quello che l'anno scorso è stato un brutto momento per la grossa carenza delle donazioni, ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno questa parte, questa nuova campagna. In senso generale la Toscana ha perso circa 4,5% delle donazioni globalmente la Toscana. Noi come Fratres siamo riusciti a mantenere la perdita all'1,87%, comunque in termini numerici per noi sono circa 1200 donazioni sulle 63.000 che di norma facciamo. Quindi è comunque pesante, soprattutto la carenza dell'anno scorso che era stata una carenza di donazioni su tutto il territorio nazionale, ha messo in crisi il sistema trasfusionale e quindi comunque il sistema sanitario perché non era neanche facilmente reperibile il sangue dalle altre regioni che normalmente invece in certe situazioni dando supporto alla Toscana. Quindi proprio per cercare di non rivivere i momenti critici dell'anno scorso, siamo cercati di partire con delle campagne per poter sensibilizzare le persone a diventare donatori, perché quello che manca sono nuovi donatori. Le eccellenze senesi al Vinitaly. Il mondo dell'enogastronomia si ritrova come ogni anno a Vinitaly in occasione della 55esima edizione. Due eccellenze agroalimentari senesi, la Cinta Senese e il Super Tascan verranno presentate martedì 4 aprile durante l'evento Siena, Cune e Brescia, vino e salumi della tradizione che si svolgerà a Verona nel padiglione di nello stand di Confagricoltura. Una missione particolarmente apprezzata dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Vinitaly ha detto Mazzeo, un momento importante in cui far conoscere la qualità della nostra produzione e la bellezza della nostra terra. È un modo con cui noi vogliamo raccontare quanta qualità c'è nelle nostre terre, in particolare nelle terre di Siena. Produzione vitivinicola con il Super Tascani che è un gioiellino ormai riconosciuto in tutto il mondo. E poi la Cinta Senese. Fino a pochi anni fa sembrava che quella produzione tendesse a svanire. In realtà grazie a politiche pubbliche, grazie all'impegno, alla passione, alla determinazione di tanti agricoltori, di tanti allevatori, oggi possiamo dire che è un'altra delle eccellenze che portiamo in giro per il mondo. Vinitaly è un momento importante in cui far conoscere la qualità della nostra produzione, la bellezza della nostra terra e con Terre di Siena, con il Super Tascani, con la Cinta Senese possiamo portare il nome della Toscana in alto nel mondo. Il vicepresidente Stefano Scaramelli ha sottolineato come il Consiglio regionale della Toscana si avvicina e al fianco dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena per un'iniziativa che va oltre i confini regionali, che mette insieme una sinergia di lavoro e di produzioni tipiche dei territori. Il Consiglio regionale della Toscana, vicino e al fianco dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Siena, è un'iniziativa che va oltre i confini di Siena, va oltre i confini della Toscana, che mette insieme una sinergia di lavoro e di produzioni tipiche dei territori, insieme a Cuneo e a Brescia, dove Confagricoltura collabora insieme a noi, dove fondamentalmente la Toscana riesce a superare i confini di se stessa, una partecipazione congiunta che porta avanti il nome delle produzioni di qualità, coniugare delle produzioni dei territori di varie regioni, metterli in sinergia, crea una relazione, crea soprattutto delle opportunità per le imprese, per chi nel territorio produce, per chi lo vive e soprattutto sulle eccellenze che dimostrano come le istituzioni, come nel nostro caso, possono essere al fianco dei produttori agricoli e soprattutto promuovendo, promuovendo ovviamente i prodotti, il nostro territorio toscano. Un evento realizzato grazie all'impegno dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena, che ha organizzato un'importante occasione di confronto, come ha ricordato il Presidente Nicola Ciuffi. È sicuramente una partecipazione importante. Io la vorrei ridurre in tre termini, che è quello dell'impresa, della tradizione e dell'innovazione, quello che noi praticamente propagandiamo e che sono i tre termini che racchiudono quello che noi vogliamo significare con le nostre partecipazioni. Noi non abbiamo da propagandare la nostra regione e la nostra zona particolarmente, però è un'occasione questa per propagandare due prodotti, come il Super Tascan e il Cinta Senese, che sono un prodotto legati sia alla tradizione e sia all'innovazione. perché è stato un qualcosa che ha portato avanti un po' l'impresa, il lavoro dei nostri imprenditori agricoli. È l'occasione per evidenziare l'attività dei nostri imprenditori agricoli. Portiamo due testimoni ad eccezione, la Cinta Senese e Super Tascan, che testimoniano cosa può fare l'innovazione e la tradizione, messe insieme. Qualità, eccellenza, attenzione. I nostri imprenditori sono molto curiosi, molto attenti, hanno sempre attenzione al bello, all'estetica.